Musica Ciao a tutti ragazzi sono AndiDi e bentornati sul mio bellissimo stupendissimo canale con il nostro PlanetBase dove 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 l'ultima volta abbiamo fatto qui il coso la nuova la nuova il nuovo magazzino infatti lui già sta venendo a depositare e c'è uno spazio gigantesco raga secondo me c'è uno spazio veramente veramente gigantesco ok è arrivata la nave coloni bene perfetto quello che volevo dato che ce n'ho pochi ce n'ho ben ben pochi allora ossigeno 22 su 50 acqua 5 su 11 energia ci stiamo dovremmo esserci su tutto quindi non dovrei avere problemi allora adesso dopo aver fatto tutto ciò e dopo aver preso anche qualche pezzo di ricambio così i pezzi che costruisce questo me li lascia qua e non li mette qui dentro e mi fa un cazzo di favore dato che ogni volta è un problema quello che voglio fare è costruire l'altra parte di qua questa qui eccolo qua il telescopio volevo costruire il telescopio perché così almeno no quello piccolo a sto punto faccio quello grosso e sti cazzi a sto punto faccio quello grosso e sti cacchi ok commercializziamo qualcosa abbiamo un po' di soldi abbiamo anche un bel po' di questi allora fammi vedere tu che c'hai ricambi i ricambi ragazzi oh pomodori questi sono quelli OGM bot costruttore bot corriere io prenderei un bot costruttore e poi un paio di ricambi forse 2.76 come glieli do 2.76 io adesso allora 5 10 5 allora facciamo così ok 9 di quelli sono 90 questo quanto da 25 buono 25 valore 5 valore 10 valore 5 arriviamo a 100 ecco 200 276 ci leviamo un po' di questi e forse qualche soldo dato che leviamoci qualche soldo dai giusto per 2.76 ci arriviamo così dai che ho bisogno di ok perfetto vai perfetto perfetto così ci togliamo anche di mezzo un po' di parti che magari possono essere meno utili e ci prendiamo cose molto più importanti come ad esempio i pezzi per i ricambi questi qua che sono importanti così almeno non vengono qui a rompere i coglioni e quindi questo progetta tutto cioè fa tutto per questi due parti qui che sono molto importanti oh cazzarola vedete perché devo fare quell'affare il prima possibile soprattutto mi devo pure sbrigà porca puttana perché così almeno posso costruire quella cazzo di cosa questo affaraccio maledetto e lo so che richiede il telescopio va a fanno mazza di solida porca miseria vedete sbrigà senza il telescopio non mi fa fare la cosa dai 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 porca vacca dai ok quanto ti manca due due ok ok adesso uno e uno o zero e zero me so e infatti due pezzi un pezzo dove sta il bot eccolo qui l'altra parte così mi parte coi ricambi in più c'è un bot che è quello esatto quello costruttore perfetto bot costruttore e i pezzi di ricambio interessantissimo adesso adesso diventa sempre più inter coloni un colono solo perché un colono questo si è fatto male quello si è fatto male qua c'è uno solo di quei cosi io spero che questo affare lo stia facendo anche perché sta tirando fuori un sacco di parti cioè cibo stiamo bene cibo cibo stiamo bene dai 11 8 4 3 pasti esaurimento di forniti medici e li sta facendo 9 parti di amido che dovrebbero diventare batta a piander secchio quando ci diventano batta a piander secchio dov'è il colono ah li sta facendo li sta facendo rilassatevi madonna come siete come sei suscettibile te li sta a fare un attimo dai il tempo no sta lì a costruire apposta uh che sei mercantile vediamo che c'hai eh no non mi serve un frappo a me grazie aspetta questo quanto vale 10 20 testigosi mi posso prendere va a 31 tua nonna quella vacca tua nonna quella vacca guarda tua nonna quella vacca allora se te dico tenevo pure a na ciao bella per te anzi ti dirò di più dove sta mercante batta a piander culo solo coloni per adesso solo coloni per adesso eh preferisco vaffanculo oh quarto dai ne manca uno qua costruisci dove è il bot costruttore dove cazzarola è il bot costruttore dove sei bot di merda questo si sta riparando perfetto dove stai bot di merda stai costruendo bravo bot bravo oh 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 boni 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 allarme giallo allarme giallo subito 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 corri corri terremoto terremoto ah no tempesta 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 questo che è un ingegnere si abbiamo bisogno di ingegneri quindi per stare là ok però adesso mi fa costruire questo oh oh che bello che bello che bello ma c'è bisogno di un fottio di roba un fottio un fottio di roba devo fare il coso di energia devo fare il coso di energia il coso di energia l'energia eccolo qua devo fare un altro coso di energia prima possibile che sembra una capolata ma l'energia serve però c'è l'allarme giallo non vedo queste rimove da casa ah questi stanno a scendere no questo è mercantile ancora c'è mercantile bah e vattene non mi serve vai via ciò ciò ah mi sta a far perdere tempo grande molto grande che mo l'energia qui eh 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 scarseggia eh scarseggia eh 80 200 devo mettere un altro un altro due di questi forse eh scarge scarseggia 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 geggia geggia scarseggia questo non ho capito perché non me li fa fare boh ha bisogno di non ho capito cosa uh si sta riparando il minatore il bot minatore c'avevo il bot minatore quindi pensavo che non c'avevo oh strana come cosa pensavo che non era non era presente invece ce l'ho ecco devi venire a costruire però eppure qua ovviamente prima possibile ahaha vabbè questi adesso si stanno a ricaricare perché ovviamente eh sto cosa gira come un piacere anche se si rovinano perché non è vento regolare tu che sei bot corriere bene bene quattro due quattro sei sei letti aspetta che forse il giallo non serve più e dai ok il giallo non serve più adesso però ho bisogno di costruire altri due dormitori uno e due vai così aumentiamo anche un po' la stai andando a costruire bravissimo bravissimo proprio proprio bravo bravo ok questo si sta riparando perfetto sta cosa di riparazioni che vengono fatte direttamente da soli è stupenda lo so grazie oh la struttura è stata collegata bene adesso devo capire com'è che funziona chi è che mi ha mandato un messaggino mi è arrivato un messaggino ah è bixby ho comprato l'S8 e c'è sto cazzo di bixby ogni sera prima di andare a dormire mi dice ricordati di mettere la sveglia ma che cazzo ora la vuoi ma chi ti ha detto niente ma chi ti dice niente fate un pacco d'affari tua ma io non lo so ma io non lo so guarda ti fai un pacco d'affari tua e la cosa la decido io ma guardate questo ok qui nessuno nessuno ingegnere abbiamo bisogno di ingegneri a quanto pare botte costruttore bravo fa qualcosa operaia bene perfetto ingegnere perché non vai un attimo qua ingegnere e su e va a fare qualcosa no per un ditte però là c'è va a fare l'ovo questa volendo ce la possiamo togliere dalle palle però poi mi scollega questo sto braccio mi tocca collegare prima sti due ecco mi collego penso che collegano perché metrigni no eh no non posso togliere questo se tolgo questo è la fine o collego questo con questo e mi da un altro tunnel qui che mi da la possibilità di arrivare fino qua però uh coloni 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 vedere vedere chi sono vedere chi sono chi sono chi sono chi sono chi sono ingegnere e il medico l'ingegnere serve proprio come il pane serve proprio come il pane si si l'ingegnere mi serve siamo in 25 buoni perché in 25 vabbè porca puttana lo sapevo lo sapevo lo sapevo porca miseria ladra io lo sapevo che devo costruire qua a fare io lo sapevo devo scostruire quel missile anti vattapia del culo io lo sapevo ma distrutto pure un bot bot costruttore che mi so tanto 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 comprato porca porca miseria ladra ah sta in funzione 60% mortacci stracci probabilmente di sasso 60% no basta costruiamo sto affare basta mazza quanto copre oh non pensavo coprisse così tanto un affare del genere wow mazza che bestia via sti cacchi costruitelo subito immediatamente non interessa quanto c'è bisogno non interessa quanto tempo c'avete bisogno dovete costruirlo subito mi deve buttare giù tutti i tipi dei meteoriti che si avvicinano tutti tutti non si deve salvare manco un meteorite manco uno non me ne frega niente commenta un po' velocità eh che cazzo non c'è sto capicchesso dai forza proprio il più in fretta possibile mi servono ste cose bravi bravi così madonna mancano solo sti cinque pezzi ma bello ma bello ne ha portato già uno a questo ma è stupenda sta cosa mancano solo cinque cosini che sta costruendo qua e qua bello bello anche questo sta costruendo tutta go go perfetto proprio cose perfette perfette tutto quello che devo che deve riuscire fuori 60% li montacci vostro maledetti maledetti malediti malediti oh ah mamma mia è preso un corpo pensavo che erano ok altri due coloni altri due coloni allora vediamo un po' quanti che tipo di coloni c'ho perché io lo cazzo sto scritto quattro ancora quanti no 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 statistica eccoli 27 coloni c'ho 10 operai 7 biologi 6 ingegneri 3 medici 1 guardia e 0 visitatori che però a me non mi interessano i visitatori per adesso perché non me ne servono a un cazzo c'ho 4 bot 2 corrieri un costruttore e un minatore quindi il costruttore ce l'ho ancora eccoli 3 ne mancano 3 perfetti perfetti proprio ah ce l'ho i semiconduttori qui aha aha ce l'ho i semiconduttori ce l'ho il semiconduttore ok dovete costruire questo e questo ancora però vabbè quello non c'è problema arriva quello arriva eh bravo se te metti lì mi costruisci un altro corriere eccolo brello che spettacolo che ha distrutto che ha distrutto ah è caduto qui madonna santissima uh un altro ingegnere chi è un operaia benissimo perfetto 28 persone vabbè sta facendo l'autosalvataggio per ora non mi interessa porca putt... guarda eh guarda se se sbrighiamo a costruire st'affare che così mi tolgo da mezzo il bambobibbo eh bambobibbo oh e ti clicchi antimeteoridi ok sta andando qua quindi ne manca uno solo bene benissimo lo so lo so lo so i ricambi lo so che finiscono subito mi dispiace ma eh purtroppo questi so questi so so questi in pratica non mi è scassata wallera oh benissimo gli operai vedete quanti operai ci stanno vedete quanto tempo di meno ci mettono a costruire sti affari eh e che diamine su oh finalmente sto andando a un ritmo leggermente maggiore leggermente ovvio non è che sto andando a proprio un furmine però leggermente maggiore cazzarola altri coloni altri coloni vai sforna coloni a gogo madonna quanti un operaio due biologi biologo eccolo costruito sì sì adesso sì energia al laser mamma mia che spettacolo probabilità di attaccettazione 60% adesso non mi dovete scassare la wallera che quanto è vera la santissima pazienza il primo il primo meteorite che si avvicina porco due il primo il primo meteorite che si avvicina gli devi dare un corpo talmente forte che mi deve esplodere 10 meteoriti dopo che cazzo ok vediamo un po' corrente ah energia a 90 su 154 acqua qui 5 su 13 31 su 50 mamma 141 devono costruire qui mancano ancora 4 di quelli poi devo fare altro pannello solare e altri due un'altra turbina un'altra turbina appena riesco ad avere un po' più di eccolo qua coloni niente un ingegnere e chi era l'altro un operaio no un biologo forse bene però sto finendo il cibo bene il cappio bene il cappio sto finendo il cibo io eccolo là perché non l'ha colpito cioè mi spieghi che cazzaro l'hai fatto scusa mi spieghi che stai a fare là se non l'hai colpito devo fare un altro di questi un altro di questi mi serve un altro di quelli mi serve un altro di quelli no 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 lo so che i ricambi sono finiti no non è la mensa non è la camera stagna biocupola oddio una biocupola gigantesca si potrebbe pure fare vai biocupola gigantesca ha sparato ha sparato sta merda capito ne fatterà uno qui però spara il coglione che sta qua giù ma vaffo maledetto 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 ok sono arrivati a altre due persone basta basta coloni perché sennò siamo a 35 barù ho finito tutto la bioplastica l'ho finita praticamente la bioplastica è conclusa è finita non c'è più la bioplastica i pasti stanno lì per finisse no no basta bene oh lontano meno male eh cazzo non riusciamo a colpirne uno e andiamo no no fammi questa qua come stavamo messi in medicina oh hoia pieno oh hoia pieno ok sta costruendo perfetto ne mancano ancora 6 pezzi qua invece ne ha messo uno solo e uno solo di qua va bene va bene tanto per adesso la cosa importante è che questo mi spari a tutti i cazzi buboli che stanno per uscire prima che che io gli sparo che io sparo a lui ah probabilmente eccettazione 0% è per questo che tu praticamente stai fermo quando arriva il meteorite fammi capire ok allora ragazzi buoni fermi un secondo perchè voglio fare una cosa molto figa buoni eh voglio fare così salviamo mettiamo in pausa e ci vediamo in un prossimo video ci vediamo in un prossimo video dove spero che continuiamo questa cosa e spero che la biocupola mi porti altro cibo perchè sennò qua stiamo stiamo messi male senza cibo raga stiamo messi veramente male perchè più aumenta la gente più in realtà dovrei fare cibo io mi sono completamente dimenticato come un deficiente e quindi eccolo là che stiamo con le scorte quasi finite vabbè spero che questa biocupola me la costruiscono in fretta così almeno magari metto qualche piantina tanto ingegneri e biologi nemmo go go diciamo 35 persone che non stanno facendo un frappo tutto il giorno e quindi dovrebbero dovrebbero venire a rompere i coglioni e a fare quello che devono fare ok ragazzi noi ci vediamo in un prossimo partito episodio intanto salvo intanto questo dove sta l'opo sta portando verso camera stagna forse qua comunque noi ci vediamo in un prossimo video come sempre ciao a tutti ok